Il re Lear non è esattamente la storia dell'uomo che si chiama Lear, è la storia dell'umanità, dell'uomo, perché contiene, questo è uno dei testi di Shakespeare, anzi il più grande in questo senso, che contiene tutti i colori dello spirito umano, si passa dalla protervia del re che all'inizio la potenza non gli dà la tenerezza della comprensione, si passa alla delusione quando i figli lo cacciano, alla delusione, al dolore che lo porta fino addirittura alla follia, dalla follia si ritorna poi alla tragedia, è un dramma così vario che non c'è un solo tratto da sottolineare, il problema delle vecchiaie, il problema dell'ingratitudine e poi è bello perché si passa, e in questo sono stato aiutato da tante letture che ho fatto di Samuel Beckett, perché Samuel Beckett dice che dalla tragedia del vivere si passa alla farsa del vivere, dalla farsa del vivere si passa alla tragedia, qui si passa così, dalla tragedia, l'ir diventa pazzo e quando è pazzo dice le cose più sagge e quando è pazzo avviene la farsa, perché ad un certo punto sotto una tempesta, in una capanna lui fa un processo alle figlie, prende due sgabelli e li rende figli, fa l'autopsia con un pezzo di legno rosso e dice che ha il cuore, diventa una farsa, questa è la complessità, la difficoltà di fare il relire, ecco perché nel relire ci vuole certamente una grande perizia tecnica, diciamo perizia tecnica, non parlo di me, parlo in generale della perizia tecnica, ma la cosa indispensabile, veramente indispensabile è la ricchezza umana che l'interprete ha o non ha, generalmente non è che i vecchi sono saggi, i vecchi sono esperti, però il passare degli anni ti dona inevitabilmente, se tu vivi con le antenne dritte della mente e del cuore, ti dona limitatamente delle emozioni che vanno dalle gioie ai dolori, pensa a quante cose abbiamo nella vita, se tutte queste cose ti rimangono dentro come emozioni vive e non soltanto come dei ricordi appassiti, beh sono queste, questa cozzaglia di emozioni che aiutano a rendere il personaggio di relire, non so se mi sono spiegato, è l'umanità che una dentro e questa umanità è data anche col vivere tanti anni, a volte vivere tanti anni, certo vivere i muscoli si rigidiscono, però se uno vive con la gioia poi di fare un lavoro in cui crede e che crede che questo suo lavoro sia utile agli altri e che possa servire la vita, è chiaro che stai con le antenne dritte delle attenzioni e ti arricchisci di ciò che succede intorno a te e questo porta a una certa ricchezza umana, ecco, questo è indispensabile per fare di reale in. Grazie.